il fumo proveniva proprio da qui miei cari amici eccolo qua trovato probabilmente di qui si arriva alla sala macchine ricevo qualche qualcosa all'interno ma non capisco se è lui così non riusciremo ad entrare vuoi provare a forzarla joker ovviamente ok facciamolo dagli un calcio forza è stato facile mamma mia che puzza che c'è qui dentro ma guarda qualcuno ci sta aspettando la sotto chissà come mai quei quattro puntini sono lì fermi si vedono voglio vedere se si vedono eccoli là eccoli là guardate ecco quel bastardo però ci sono anche i suoi uomini uscendo qui arriveremo proprio davanti a loro e non avremo via di fuga che facciamo joker ovviamente andiamo d'accordo saltiamo giù porca troia quante rogne ascoltaci silenzio questo posto off limit idiota cavoli quel tizio sarà anche una cognizione ma fa proprio paura sono troppo occupato per pensare a voi scartine vi lascio i miei uomini ancora meglio che sia l'ultima volta non hai imparato niente da tutti gli altri che abbiamo ucciso ho quattro baffo metta ma i tuoi uomini sono tutti baffo metta beh basta scherzare prezzo splendenti mai a prendere dei propri errori vero ce l'abbiamo fatta allora dov'è guardate la me ne vado a fanculo ragazzini merda non ci sfuggirà prendiamoci questa lettera con la forza se dobbiamo andiamo a prenderci la lettera allora diamo un'occhiata il nostro bersaglio dovrebbe essere in questa stanza l'abbiamo messo alle strette ora cerchiamo il modo per entrare dalla porta ma penso che sia l'aspetti forse è meglio cercare un'altra via passando ad esempio dal condotto di ventilazione come nostro solito fare eccolo stavolta l'abbiamo messo alle strette questa sarà la nostra ultima lettera di raccomandazione dobbiamo prenderla andiamo allora molto bene è arrivato il momento di mettere fine a questa storia voi siete ancora qui che palle ragazzini ragazzi davvero non capite quando è l'ora di piantarla ci tenete così poco così tanto a farmi fuori a che clana appartenete clan? intende tipo un clan per la yakuza ehi non è che spazia via i problemi facendo sparire la gente merda è davvero uno yakuza e così quel bastardo di shido legami anche con la mala vita conosci iwai siamo amici come facciamo a farci dare la lettera di raccomandazione dobbiamo provare il nostro valore ehi sono un uomo impegnato in fin dei conti devo occuparmi dei problemi di tutti quegli arresti mentali se avete un conto è sospeso con me ditolo e basta quanto per la lettera una lettera di raccomandazione perché cazzo dovrei darvene una come sospettavo in realtà siamo qui per consigliarle un nuovo tatuaggio un tatuaggio questo ragazzo è un disegnatore eccellente è un artista ma cosa stai dicendo non ho alcuna intenzione di disegnare un mero tatuaggio pensavo fossi in grado di farlo yusuke che diavolo state discutendo yusuke disegna qualcosa l'arte è arte no che palle molto bene potrei almeno scegliere il soggetto non accetterò nulla di eccetto una splendida fenice che riflette il mio splendido animo una fenice preferirei qualcos'altro ti tiro indietro mister artista sei solo un chiacchierone di titmi come te ce ne sono a bizzeffe non sono un chiacchierone posso disegnare qualsiasi cosa portatemi un pennello un pezzo di carta ecco fatto amico questo non va mica bene come tatuaggio ma è un mostro ha un non so che di spaventoso un'opera esplosiva la mia percezione di una fenice non c'è speranza che vada bene non ho mai visto niente di simile prima d'ora mi piace la ringrazio beh è andata bene no bene gradire una lettera di raccomandazione una condizione ragazzo ti voglio come tatuatore personale vuole reclutarti devo rifiutare allora niente lettera io a decidere il mio percorso come artista non mi farò più aiutare dagli altri se riesce a capirmi mi consegni la lettera altrimenti ce la prenderemo con la forza e comunque lei è più un piccione molesto che una fenice buffone bastardo ti distruggerò ti squatterà ti strapperò le budella dobbiamo ancora combattere dopo tutto questo beh l'insulto di yusuke è stato molto creativo quindi sì dobbiamo combattere yuji vediamo cosa sei deboli in realtà tu ha nulla guarda giusto perché voglio divertirmi debilitiamoti guarda sono abbastanza sicuro che non funzionerà proviamo lo stesso ovviamente non ha funzionato fungo atomico colpi oscuri e beh non ci vuole tanto per distruggerti allora carica anche se in realtà non ci serve ti prego dacci la carica a tutti ah l'ha debilitato wow grazie futaba carichiamoci anche noi servirebbe anche la carica yusuke vai di lama turbinante minchia anche critico hai capito yusuke rompi formazione passiamo la staffetta a noi e vai di assautobi volevi combattere fisico beh allora combatti contro yoshitsune 5000 di critico 5000 di critico e anche perché l'abbiamo debilitato e anche questo è il motivo per cui abbiamo fatto tanto danno yoshitsune a livello 90 98 wow voi tempistelli siete tosti mi piacete avete le palle d'accordo vi darò la mia lettera di solito dovrei spazzarvi via per il caos scatenato sulla nave ma ormai non ha più senso ci lascerà andare questo posto avrà vita breve se non se dei guerrieri potenti come voi sono riusciti a infiltrarsi a bordo è ora di svignarsela il capitano è stato un grande certo ma dovrà affrontare da solo affondare da solo con la sua nave ci si vede ragazzi beh è stato saggio reazione inaspettata per una creazione cognitiva i politici non si avvicinano mai alle loro conoscenze più losche il legame è solo monetario deve essere così beh finalmente abbiamo tutte le lettere dobbiamo usarle per entrare nell'aula magna giusto sì e scommetto che il tesoro sarà proprio lì ad aspettarci abbiamo esplorato quasi ogni anfratto per raccogliere le lettere non ci sono più dubbi prenderemo quel tesoro a qualunque costo immagino che tutti voi lo sappiate ma questa lettera di sfida sarà diversa dalle altre una volta mandata i nostri nemici sapranno che joker che tutti danno per morto invece è ancora vivo ci metteremo in una situazione difficile con le nostre mani se dovessimo perdere le nostre vite sarebbero spacciate non possiamo permetterlo giusto? è l'ora della vendetta sì questo non è solo un problema dei ladri fantasma è anche una tua questione personale e allora è deciso la vera domanda è come e dove manderemo la lettera di sfida? perché non facciamo qualcosa di sfarzoso? tutto il nostro piano è in funzione di questo momento in effetti dovrà essere teatrale una semplice soffiata verrebbe soffocata dall'influenza di Shido potremmo fare qualcosa di diverso da una lettera questa volta è giunto il mio turno di rubare la scena cosa hai in mente? non è niente beh è inutile pensarci in questo momento torniamo indietro per adesso? direi di sì direi che è il momento di tornare indietro adesso abbiamo le 5 lettere di raccomandazione è stato difficile ma finalmente possiamo aprire quella porta prendiamo il tesoro direi che è arrivato il momento di andare a prenderlo allora torniamo indietro forza è il momento di avvicinarci al tesoro oh ma guarda una presenza inaspettata hakechikun ciao da quanto tempo tu perché è qui? sono impressionato che siate riusciti a ingannarmi devo aver sottovalutato le vostre abilità sei una creatura interessante silenzioso eppure col coraggio e la determinazione di agire in altre circostanze saremmo potuti essere grandi rivali o forse persino amici siamo già rivali che meraviglia non ti lasci sottomettere da cose futili come i rapporti umani o il passato ergo il tuo cuore sempre libero l'esatto opposto del mio a essere onesti ti invidio è un vero peccato non esserci incontrati qualche anno fa a Fionix a che ci sembra davvero pentito per come sono andate le cose? credo di capirlo un po' meglio oh ma guarda un po' rango 9 tutto questo solo perché Akechi ora si fida di noi? la vedo difficile Akechi ma è inutile discutere in termini ipotetici la realtà è andata diversamente Akechi come hai potuto allearti con uno come Shido? non vedi com'è il suo palazzo? la sua vera natura è? allearmi? di che parli? non mi importa nulla di Shido né di questo paese ho fatto tutto questo finché Masayoshi Shido mio padre mi riconoscesse mi vendicherò di lui Shido è tuo padre? ricordate quando vi ho parlato della relazione di mia madre con un balordo? beh sono il suo figlio bastardo la mia esistenza stessa non è nient'altro che uno scandalo dopo il parto la vita di mia madre è andata a rotoli ed è morta sono stato anche la sua maledizione è terribile ero in collera ma lui era già un alto funzionario un ragazzino come me non poteva fargli nulla ma è allora che è successo è stato allora che ho scoperto il mondo della cognizione qualun qualuncuno le divinità o un demone mi ha dato un'opportunità non ho saputo trattenere le risate che figlio di di un bastardo che importa tutti i miei obiettivi facevano la stessa dannata cosa in qualche mondo di squali ho solo epurato la società dalla loro malignità non è forse quello che fanno i ladri fantasma noi non siamo assassini e allora ho finalmente Masayashi Shido in pugno appena raggiungerà l'apice del suo potere mi riconoscerà gli sussurrerò all'orecchio gli dirò la verità su chi sono veramente e sarà allora che io una completa sciagura per il mondo lo dominerò io avrò la meglio che mente perversa fa quasi pena in poche settimane il mio piano si sarebbe realizzato ma invece no vi siete dovuti intromettere ma posso ancora sistemare tutto mi basterà ammazzarvi eh non ci faremmo uccidere da una questione del genere fai la voce grossa ma in realtà non sei altro che un bambinetto capriccioso non farmi la paternale pezzo di merda ti assicurerò personalmente di far assaggiare l'inferno in terra Masayashi Shido perciò Joker rilassati e muori pensi di potercela fare? sì lo farò meglio di quanto tu possa immaginare ma solo dopo essermi sbarazzato di voi sempre sicuro di te ma attento a non giocare con il fuoco conosciamo tutti i tuoi trucchetti da quando hai collaborato con noi Joker come puoi avere tutto questo successo con un simile idiota alle spalle smettila di bleffare non è un bleff se c'è davvero lui dietro agli arresti mentali è facile che non ci abbia svelato la sua vera forza vi racconterò del mio vero potere mentre morite potrete portarvi quel sapere nella tomba uccideteli ah ma guarda uno scontro a tre gli arresti mentali non sono i soli incidenti di cui la gente sta parlando ci sono anche arresti che fanno sì che le persone diventino psicotiche causando incidenti e scandali è impossibile spiegarlo a meno che il vero colpevole non abbia il potere ti rende psicotico il cuore delle persone esatto è il mio potere un potere che voi non avete sta per fare la sua mossa lasciate che vi faccio vedere richiamo del caos le ombre sono furenti cos'era? non era Robin Hood potrebbe trattarsi di un'altra persona anche la più flebile dell'esistenza può acquisire un grande potere quando le catene del suo cuore vengono spezzate farete meglio non sottovalutare questi due cosa ha fatto Akechi? o rendimi ci sono molto più forti attacco aumentato difesa diminuita credimi mi rendi solo la cosa più facile debole al ghiaccio e tu non so cosa sei debole secondo me all'oscurità proviamoci non ho neanche bisogno di debilitarvi fate tutto da soli non è debole all'oscurità benissimo proviamo allora con il fulmine un attacco critico da parte di Ryuji assorbe il fulmine buono da sapere proviamo a fare cambio con Morgana no teniamo Ryuji facciamo una staffetta al nostro grande leader allora se non sei debole al fulmine all'oscurità forse sarei debole al fuoco proviamoci non ci conto ma si tanto macchia non è debole al fuoco ma è morto lo stesso ben fatto quel potere che rende la gente psicotica l'ha usato su persone vere questo qui è pazzo non mi aspettavo di certo che vi sconfiggessero tu mi hai ignorato e sei sfuggito alla morte dopo tutto ingannato non avrei mai rinunciato alla possibilità di massacrarti con le mie stesse mani sta arrivando preparatevi e allora Yusuke attacca tu Makoto fungo atomico il nostro caro leader persona mi dispiace blocco Akechi avresti dovuto saperlo il nostro caro leader debilitazione tu Ryuji vai pure di carica sarebbe quasi un onore se quello che è stato insultato uccidesse Akechi Kun Tumakoto guardati un attimo maledizione quindi nessuno di noi due aveva manifestato la sua vera forza non sottovalutatemi fai quell'attacco solo grazie a me mio caro andiamo di carica anzi voglio proprio dar la vinta a Ryuji ribellati Ryuji vai di critico e spaccagli la faccia non male mi son fatto male al braccio maledizione quindi è in grado di rendere la gente psicotica io credevo usasse qualcosa di speciale come il navio e invece è il potere di una persona non posso credere che l'abilità di manipolare e far impazzire gli altri sia nata dal suo cuore mi ucciderò morirete tutti vuoi farla finita stai combattendo le persone sbagliate abbiamo un nemico comune perché saltarci al collo ucciderci non ti renderà felice ma io non importa quel che dice Shido tu hai la tua hai la tua testa devi sforzarti di capirlo dannazione sai a volte ripenso quel falso magic che avete creato è stata una trappola crudele ma se non ci fosse stata dubito che sarei qui adesso e in sostanza ogni occasione è buona per ricominciare da zero e poi tu non odi veramente Joker vero? quel sorriso prima dello scontro non è così che si senti veramente ascolta i tuoi veri sentimenti se lo ami diglielo anche se credi che gli altri ti odino non ti vogliano e non ti vogliano attorno quella è silenzio 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 compagni amici al diavolo perché sono così inferiore rispetto a voi ho curato ogni particolare ogni particolare della mia vita i miei voti la mia immagine così che tutti mi accettassero sono un grande detective una celebrità Akechi-kun ma tu tu sei solo feccia criminale che vive in una manzarda perciò come come può uno come te avere cose che io non ho come fa un inutile rinfiuto umano ad essere più speciale di me non è così non sei inferiore a me Akechi mi stai offrendo la tua pietà pezzo di merda cos'è stato? una maschera nera ma è quell'altra persona quella che con la maschera nera una maschera una maschera nera? ma di che parla? impossibile qualcun altro si è introdotto nel palazzo oltre a noi quindi ciò che ha detto Kaneshiro questi palazzi potrebbero fruttarvi soldi a palate potreste fare ciò che volete con i cuori degli altri vi svelerò un piccolo segreto c'è un criminale che usa i palazzi delle persone per fare tutto ciò che gli pare e piace e non è tipo da badare le conseguenze arresti mentali e raptus non si fa alcun problema allora c'eri tu dietro agli arresti mentali oh davvero incredibile sono sorpreso per la prima volta in vita mia forse dovrò persino dare il meglio di me contro di voi sapete mi è appena venuta un'ideuccia divertente mi domando fin dove potrò spingermi divertente? non sei soddisfatto di come eravamo rimasti vero? non era questo ciò che volevi ci colpiremo ancora e ancora fin quando uno dei due non sarà morto trattenersi al diavolo che immagine elettrizzante cosa penserà Shido di me? non me ne importa un cazzo l'unica cosa che mi interessa adesso è eliminarvi per dimostrarvi che sono migliore di voi forza Kechi allora dimostramelo chi sei davvero? un pazzo ecco chi sei persona il potere dell'oscurità sta avvolgendo a Kechi lo immagino a Kechi tutto era falso no lo è sempre stato Ryuji mi dispiace contraddirti io ce n'era bisogno io vi ucciderò vi distruggerò Vi spazzerò via I compagni sono solo spazzatura Vediamo Ovviamente non è debole a nulla Però Debilitiamolo lo stesso Visto che ci siamo Tu Skull Caricati Makoto se riesce Riusciamo a farla curare tutti Tu Yusuke curati E tu Makoto Fungo atomico Che male Cos'è che fai? Uh Barriera fisica Male 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 Mi spiace Oh la tua barriera si è appena dissolta Kechi Ah Kechi quanto mi dispiace Tutto ciò Carichiamoci anche noi Quanto saremmo potuti essere amici Tu non lo immagini Mano di Dio Ma come è mancato Skull Oh Colpisci lo Yusuke Maledizione Skull Una volta tanto che potevi fare un mega colpo Vabbè prima l'hai ucciso tu dai Siete solo De pezzi di merda Che si leccano le ferite a vicenda Vi basta dire che siete compagni di squadra E tutto diventa lecito Protezione magica Beh non che mi importi Io sono qui per colpirti Con i miei attacchi fisici Ops Bloccato Akechi Mi spiace E ora Assautobi Aia 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 Cazzo cazzo male Mi spiace Akechi Il potere dell'amicizia ha vinto Merda Sei pronto a farla finita? Già Ne ho avuto abbastanza Sei così fortunato Fortunato ad essere circondato da compagni che ti rispettano E quando Shido confessere i suoi crimini Sarete tutti degli eroi Quanto a me Tutti sapranno che le mie intuizioni erano una farsa La mia reputazione andrà a pezzi Capisco Perciò hai reso la gente psicotica Per poi risolvere i loro casi E hai fatto unendo le forze con Shido Alla fine era ovvio che non fossi speciale Amico Tu sei più che speciale Mi duele a metterlo Ma sei in grado in lunga Più astuto e più forte di noi Abbiamo vinto solo in squadra Ero sinceramente invidiosa delle tue doti naturali E' stato frustrante vedere quanto mia sorella Si fidasse di te Non ho alcuna intenzione di perdonarti Per ciò che hai fatto a mio padre Ma ti compatisco Capisco perfettamente Il desiderio di vendicarsi degli adulti Che ti hanno fatto Che ti hanno tolto tutto Ma quando hai ottenuto il potere per farlo Hai finito per usarlo Per il tuo tornaconto Se sei capace di usare molteplici persone Probabilmente hai lo stesso talento di Joker Ma siccome hai affrontato la vita in solitudine Il potere che hai destato era colmo di odio e bugie Eppure hai creduto che fosse abbastanza Abbastanza vero? Capisco perfettamente come ti senti Primeggiavi su noi in tutto Eppure quella era l'unica cosa che ti mancava D'accordo Torniamo indietro e prepariamo la lettera di sfida Abbatteremo Shido Tu cosa hai intenzione di fare? Sarebbe un problema se continuassi a ostacolarci Vuoi unirti a noi per aiutarci a sistemare le cose? Siete forse degli idioti? Dovreste eliminarmi Se non volete che vi ostacoli Andate oltre la mia comprensione Akechi Ce n'è un altro Aspettate eh Quella è la versione cognitiva di Akechi Del cuore di Shido Di voi mi occuperò più tardi Sono gli ordini del capitano Shido Non gli servono i perdenti Beh Questo anticipa solo i suoi piani Si sarebbe comunque sbarazzato di te dopo le elezioni Cosa? Davvero pensavi che saresti stato risparmiato dopo tutti quegli omicidi? Non dirmi che eri seriamente convinto di avere qualcuno che per una volta contava su di te Beh comunque il capitano dice che è tempo che tu venga punito per aver causato gli arresti mentali Ma che diavolo dici bello? E' stato quel bastardo a estigarlo Capisco Mi stavo chiedendo come si sarebbe difeso se avesse usato il mio potere per abbattere il palazzo E la risposta sei tu Vuole farmi uccidere da un pupazzo E' proprio nel suo stile Proprio così è andato tutto come dici tu Aspetta Sono andato troppo avanti Proprio così andrò fino in fondo Ma guardati Il vero pupazzo sei tu Che cazzo hai detto? Volevi essere rispettato e amato Non è così? E invece non sei stato altro che un pupazzo fin dall'inizio Arrazzati Perciò è così che Shido vede Goro Akechi E' davvero terribile Non è ancora troppo tardi Insieme possiamo risvegliarti il cuore Anche se lui è tuo padre Anzi Proprio perché è tuo padre Cosa state blaterando? Devo prima occuparmi di voi No Non è da solo Ci sono anche le ombre Sapete cosa? Un volontario potrà prendere il suo posto Chissà forse ritarderete la sua morte Accidenti a te Voi pensate solo ad aiutare gli altri vero? Oh Voi siete proprio come me Mi assumerò tutta la colpa al posto del capitano Morirò per lui E' così che Shido ripaga Akechi-kun Dopo averlo costretto ad essere complice degli omicidi Ecco Ti do un'ultima possibilità Uccidili Che idiota sono stato Sì E' così che desidera vederti il nostro capitano Non fraintendermi Sei tu quello che verrà spazzato via Che precisione Akechi La paratia stagna è stata chiusa Tutto il personale all'esterno evacua immediatamente Ehi cos'è? Akechi Forza andatevene Sciocco Stai cercando di farti uccidere I veri sciocchi siete voi Avreste dovuto abbattermi molto tempo fa Sareste morti tutti Se avreste provato ad affrontarli con una zavorra come me Sto morendo Akechi-kun Facciamo un patto ok? Non direte di no vero? Perché proprio in un momento come questo Risvegliate il cuore di Shido Al posto mio Ponete fine ai suoi crimini Mi prego La promessa Terrò il guanto Akechi È tutto quello che ti resta da dire Sei davvero Percepisco un forte legame tra me e Akechi Oh Akechi-kun Waruman Anji Io sono te e tu sei me Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue Questo legame diverrà le ali della ribellione Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore Hai infine disvelato il segreto più recondito della giustizia Che ti conferirà un potere infinito Rango 10 Nessun potenziamento E abbiamo ottenuto Metatron Bella persona ma ha delle debolezze Bastardo Dunque il mio nemico finale è il pupazzo che ha le mie sembianze Io Akechi-kun Mona non c'è modo di aprirla Troppo tardi Il suo segnale è sparito Sto captando solo quelle mezze cartucce No Forza ragazzi Non possiamo permettere che uno squallido criminale come Shido continui a farla franca Non possiamo Per nessun motivo Cavolo mi dispiace E allora si torna indietro Akechi Dovremmo andare Dopo tutto ci ha affidato un incarico importante Andiamo Joker Si torna indietro allora Lo faremo per Akechi Per il bene di tutto quanto il Giappone Dove ci troviamo? Sembra che siamo arrivati sul ponte laterale Da qui dovremmo riuscire a trovare la strada Beh allora andiamo lì e usiamo quelle stelettere Ah così in automatico Beh ci siamo Abbiamo tutto quello che ci serviva Bene le abbiamo inserite tutte? Apriamo Apriti sesamo Tadam L'ora è finalmente giunta Già Eccoci qua Siamo arrivati Shido È il momento delle botte L'aula magna Miau Eh? Che diavolo è? È impressionante Quindi è questa l'aula magna Probabilmente Le Daruma sono un simbolo D'auspicio comune nelle elezioni Sembra tutto così reale Strano Non c'è anima viva qui dentro Eppure sembrava ci fosse una resa Una resa Quando abbiamo sentito le voci attraverso la porta Ma giudicare dall'aspetto Questa è senz'altro l'origine Della distorsione Sì Percepisco anche la presenza del tesoro È certamente questo il luogo in cui apparirà Beh abbiamo trovato il tesoro Abbiamo trovato la strada per il tesoro Usciamo dal palazzo A me sta bene Bene È il momento di mandare la lettera di sfida a Shido Siamo al capitolo finale della nostra grande operazione Non si torna più indietro Forza e coraggio Siamo arrivati alla fine allora È il momento di occuparci di tutto Attraverso Siamo arrivati alla fine